citizen pro master l'avventura al tuo polso allora dal giovedì 29 ciro va in onda il giovedì sempre alla stessa ora sempre sulla stessa rete giovedì vi aspetto a ciro santo maria del centro squilla il telefono legge il numero è il direttore di lo sapevo buongiorno dottore salve come sta in famiglia tutti bene carissimo buongiorno dottore chi è di telecom italia stavo lavorando per lei il piacere di sapere prima di rispondere che regali da findus camaleontici super mimatici a incastro fluo fluo cuore senti e tre cambiano colori con il caldo e con il freddo solo con i sofficini findus mentadent ha inventato un chewing gum actigan molto efficace contro la placca nuovo mentadent actigan vedrai che ti piace sgranocchia la libertà con chipster e vivi l'avventura con la fantastica promozione snack and go duemila zaini invicta e 150 viaggi nell'america del mito sgranocchia la libertà con snack and go e chipster musica 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 buongiorno questo televisore è dotato di un suono della nuova generazione il virtual dolby surround è integrato e vi dà la sensazione che il suono provenga da ogni direzione ora qual è la marca del televisore leader nella tecnologia virtual dolby surround il suono che vi circonda è thompson scoprite questo nome ma quanto manca secondo me il restone si è perso ma vai qua vicino una volta ci ho suonato per una trasmissione di solito la chitarra ora la tastiera senti che tocco non c'è ora come faccio a trovare non dimmi che la conosci le argomente fitness nestle è diverso perché è fatto apposta per me mi dà frumento integrale ferro calcio E tanta leggerezza per sentirmi bella e in forma Fitness Nestlé, la linea che ti dona di più Squilla il telefono, leggi il numero E Laura, quella che hai conosciuto l'altra sera e che ti piace Ciao piccola Ciao cucciola Pasticcino Ciao piccola 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 Bella Basta Laura Ma stavo leggendo Dostoevsky, l'idiota Chi è di Telecom Italia? Il piacere di sapere prima di rispondere